salve e benvenuti in un video leggermente speciale come potete infatti notare qui ho una specie di pacco ora mi è arrivato dopo pranzo quindi adesso sto letteralmente per terra l'ho già aperto e per aperto intendo ho tagliato lo scotch e adesso vedremo cosa ci nasconde sotto questi bellissimi cosi verdi da titolo dovreste averlo già capito oddio dopo dovrò pulire esatto sapete cosa è questa questa dove scritto dove è scritto non c'è scritto però questa è la collector's edition di final fantasy explorers già non è il nuovo let's play lo dico subito perché sennò la gente comincia a dire cose ed eccola qui magari sono per terra quindi si vedrà in maniera leggermente strana ma pazienza adesso scusate un secondo se lo schermo diventa nero ma devo aprirla perché c'è un sacco di cellophane si chiama questa specie di plastica e comunque non preoccupatevi sto lavorando al caricamento del nuovo let's play esatto infatti domani il 3 dovrebbe uscire il primo episodio anzi esce il primo episodio bene ora scusatemi ma ho tutto quanto appiccicato alla corrente perché non uso mai il cellulare il cellulare sempre scarico ok appena con una mano leggermente chiedo venia devo riposare il cellulare quando si vede che non faccio log ok perfetto ovvero allora facciamo a far uscire le cose eccole ora perfetto qui c'è un libretto che adesso vedremo insieme ora questo è l'art book ovviamente poi adesso vedrete le cose che ci sono incluse eccolo qui eccolo qui il gioco ora fa la fantasy explorers il gioco più l'art book li coi codici per le armi uniche perché ci sono alcune armi ottenibili solamente con la collector's edition la soundtrack già e il porta penso che sia un new 3ds xl ora vediamo un attimo le art book tanto per vedere non farò vedere tutto quanto però già non vedo l'ora di giocare questo gioco ecco queste cose ecco c'è scritto anche qui trans char characters perché questo gioco è solo in inglese attenzione e penso inoltre di portarci qualche cosa tanto per dirlo un po come monster hunter ma si vedrà adesso non so ancora dettagli quindi ve ne parlerò in futuro volevo semplicemente dirvi questo video molto corto e chissà non so se riesco a far vedere una cosa ti prego non interrompere ok va bene allora qui sto caricando il video di domani quindi si è inutile che vedete si è interrotto il video bene non è pokemon giallo devo ancora cambiare tutto quanto ma si vedrà poi bene quindi ci vediamo domani con il prossimo let's play e niente see you next time